Dovresti venire con me una volta, prima che partiamo. Ho trovato un posto che vorrei che vedessi. Te la faccio vedere io una cosa. Oh, baby! Oh, baby! Oh, baby! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Torre 49, avete messo in pericolo un'intera operazione. Devo sapere esattamente cos'è successo. Secondo Jack, gli scavenger hanno usato una cellula di carburante rubata e l'hanno inserita nell'aspirazione. Torre, stand by. Torre... Recebo un segnale estraneo in griglia 3-7. Tu lo vedi? Sì. Deve essere degli scavenger. Non è uno dei nostri. Jack, il segnale viene inviato fuori dal pianeta. Sto andando. Torre, a noi risulta che vi manchino altre 9 cellule carburante. Puoi confermare? Negativo, missione. Il numero è 10. Drone 172 è andato perduto stanotte. 109 è pronto al combattimento appena avremo l'armatura. Possiamo coprire le restanti tribelle con i droni sul campo. Ho esaminato i numeri. Facciamo i controlli numerici qui. Torre, assegno i droni a posizioni difensive. Ricevuto. Il nostro compito è gestire le tribelle, la vostra direttiva e difenderle. Non possiamo permetterci di perderne un'altra. Ricevuto? Ricevuto. Tu e Jack siete una squadra efficiente? E come se lo siamo? Grazie a tutti.